Come pensate su Roma e come accettistevi di essere un guest di questo evento? Penso che il modello di Roma è uno dei più grandi eventi che ho attenzionato in Roma. E questo è perché io sono una professora di internazionale e sono molto conosciuta con il tema che ho invitato a discutere oggi. E credo anche in Niu e Nuno e come un fattore per contribuire al futuro di fare il mondo un piatto migliore. Non è una frase cliché, ma credo in questa frase. Siamo lavorando con il Comitato UNICEF sul tema di malnutrition. Bisogna il Comitato UNICEF? Sì, anche se il Comitato UNICEF non è un membro del Comitato UNICEF, abbiamo l'office del Comitato UNICEF di Kosovo. Siamo lavorando per ridurre la malnutrition, soprattutto la malnutrition tra i ragazzi, i bambini e i bambini. Siamo lavorando per ridurre questo fenomeno, che è ancora un problema, sia in regione e in globale. Quale è la vostra opinione sul problema dell'equality gendere nel vostro paese? Il mio Presidente è una femmina. Questo parla di un volume sull'equality gendere. Abbiamo una quota, anche se stiamo contro le quota. Abbiamo una quota di 30% di rappresentazione di femmini nel governo, nel Parlamento e in altre istituzioni pubbliche. Ma anche prima di quattro, la società di Kosovo era conosciuta per forti femmini, che erano molto attivi, sia in combattere o in altri aspetti della stazione e della società di Kosovo. Grazie. Grazie mille.